Un minuto per presentare il teatro hotel Un gruppo universitario È fondato nel 2016 da un gruppo di studenti di Sato Facciamo teatro Diattro a tutti Tutti gli studenti di qualunque forma, colore, peso e misura Non siamo capaci di fare alcune cose Di portare tutti Nostri spettacoli parlano di noi Che abilità e disabilità Discriviamo insieme Abbiamo due esiste Un manager Il sostegno del Dipartimento di Lingua dell'Università di Verona Abbiamo organizzato il festival del teatro Festival Vidya Il teatro delle abilità potenziali Partecipiamo a un progetto di eccellenza Inclusive Humanities Abbiamo un progetto Unile le tattiche Altre meno Ma ce li teniamo aspetti lo stesso Vogliamo altro? No! C'è anche una lettera di presentazione No! Di mille caratteri No! No! No!